Spero tu sia d'accordo con me nell'affermare che una fotografia può avere successo oppure fallire per tantissime ragioni ed in particolar modo se non riesce a comunicare correttamente le emozioni. Se un fotografo non è in grado di trasmettere il proprio messaggio attraverso le fotografie queste raramente riusciranno a essere immagini di grande impatto e di grande successo. Ci sono tantissime motivazioni per cui una fotografia può fallire nel comunicare nel trasmettere le emozioni ma in particolar modo trovo che ci sia un elemento fra i più importanti in assoluto che è cruciale per la buona riuscita di un'immagine ovvero la luce. Ricordiamoci sempre in un'ottica un pochino newtoniana che la luce è anche composta dai colori. Di conseguenza luce e colori sono gli strumenti più importanti in assoluto che ogni fotografo deve conoscere e saper gestire ed utilizzare per trasmettere il proprio messaggio e convogliare delle emozioni all'interno delle nostre fotografie e di questo andremo a parlare nel video di oggi. Per iniziare direi subito una cosa molto importante. La luce che un fotografo va a scegliere nelle proprie fotografie sia essa artificiale oppure naturale deve essere la luce adatta per il nostro soggetto e per il messaggio che vogliamo comunicare. Ad esempio se vogliamo comunicare una scena di caos, di intensità, di inanicità dovremo sicuramente prediligere una tipologia di luce mentre se vogliamo mostrare una scena tranquilla, rilassata, felice, pacifica la stessa luce probabilmente non andrà bene e avremo bisogno di altri elementi. Non voglio entrare nel dettaglio di luci dure, luci morbide in questo preciso franzente. Voglio solo far notare che dobbiamo essere in grado di scegliere la luce giusta per il nostro messaggio che vogliamo comunicare e che abbiamo anche a disposizione tantissimi strumenti per farlo. Se scattiamo in esterno ad esempio un paesaggio sì, dobbiamo aspettare la luce giusta del giorno, però noi fotografi possiamo scegliere l'ora migliore, il giorno migliore, la posizione migliore e ripetere anche il processo nel corso dei giorni. Potremmo utilizzare anche delle luci esterne, dei flash oppure dei filtri, dei modificatori di luce. Se scattiamo in studio ovviamente il controllo della luce sarà totale. Ma non dobbiamo basarci unicamente sul controllo della fonte luminosa. Abbiamo anche degli elementi della nostra macchina fotografica come i parametri di scatto, tempi, diaframmi oppure il bilanciamento del bianco che ci permettono di aggiustare i colori, aggiustare le cromie e anche la quantità di luce in ingresso nella fotocamera. E infine non dimentichiamoci di un altro elemento importantissimo che è l'editing. Anche l'editing, la post-produzione delle nostre immagini è un qualcosa che molto spesso si tende a dimenticare, ma ci permette di avere un enorme controllo sul risultato finale delle nostre immagini. Tutto questo per dire che noi fotografiamo davvero tanti strumenti per andare a gestire la luce e non dobbiamo cercare scuse dicendo che non abbiamo avuto a disposizione la luce perfetta per i nostri scatti. Ciò detto, iniziamo a parlare degli elementi più importanti, ovvero la luce e l'oscurità. Iniziamo proprio a parlare di oscurità. L'oscurità, le parti più scure e il colore nero all'interno delle nostre immagini, sono uno strumento potentissimo per noi fotografi ed è veramente molto popolare in quasi tutti i generi fotografici, paesaggio compreso. Il decidere di non esporre correttamente o per bene una determinata parte di un'immagine ci permette di nascondere delle parti alla vista del nostro osservatore. E facendo così andiamo a incrementare tantissimo il senso di mistero della nostra immagine. Questo vedo e non vedo da parte dell'osservatore stimola la sua curiosità, stimola il suo interesse e sicuramente ne cattura l'attenzione. Basti pensare anche a tantissime pubblicità, specie di oggetti abbastanza costosi come smartphone o computer o le stesse lenti e macchine fotografiche. Molto spesso in queste pubblicità viene molto usata l'oscurità, questo vedo e non vedo in cui riusciamo distintamente a distinguere il nostro soggetto principale, ma viene molto lasciato la nostra immaginazione. Quindi l'oscurità oltre a un senso di mistero ci dà anche un senso di raffinatezza e un qualcosa di pregiato all'interno delle nostre fotografie. Inoltre il colore scuro viene anche utilizzato per mostrare delle scene che possono comunicare una sensazione di tristezza oppure in generale un po' di angoscia ed il colore scuro, le parti più scure ci permettono di fare tutto questo. Guardiamo ad esempio queste due immagini. In un'immagine riusciamo a distinguere abbastanza bene tutti i dettagli di questa immagine. È una fotografia, comunque sì, la possiamo definire scura, ma non viene lasciato nulla alla nostra immaginazione. La medesima immagine, scurita invece, ha un aspetto del tutto diverso. Riusciamo comunque a capire qual è il nostro soggetto, riusciamo comunque a distinguere nei dettagli, ma non tutto alla perfezione come prima. Ed ecco che il messaggio che viene inviato da queste immagini, le emozioni che vengono trasmesse, sono molto diverse le une tra le altre. In contrapposizione all'oscurità abbiamo la luminosità, quindi immagini non più scure, ma immagini luminose, in cui non celiamo nulla alla vista e tutto è bello visibile per il nostro osservatore, non deve immaginarsi niente. Queste fotografie in contrapposizione con le altre non danno un senso di angoscia o di mistero a tutt'altro, ma trasmettono un senso di felicità, leggerezza e spensieratezza. Non c'è nulla di cui si deve preoccupare il nostro osservatore. Tipicamente fotografie di questo genere sono scattate di giorno quando l'abbondanza di luce ci permette di mostrare tutto senza ombre o senza elementi scuri in cui non riusciamo a distinguerli. E queste fotografie le associamo sempre a un senso di felicità e spensieratezza. Ora che abbiamo parlato di luminosità e oscurità nelle nostre immagini, vediamo anche la relazione che c'è fra di loro. Specialmente in natura è improbabile avere una fotografia o completamente scura o completamente chiara, ma ci troveremo al loro interno tutta una serie di parti chiare e parti scure nelle nostre fotografie. E questo è quello che possiamo chiamare contrasto. Il contrasto in generale è la presenza di parti chiare o parti scure all'interno della nostra fotografia, ma il contrasto che interessano i fotografi è quando queste parti vengono avvicinate le une dalle altre e avremo un contorno netto che divide il chiaro dallo scuro. Ad esempio questo gradiente contiene al suo interno il colore bianco e il colore nero, ma sono molto lontani fra di loro separati da una sfumatura, quindi nel complesso non è un elemento di grande contrasto. Se guardiamo invece questa immagine abbiamo il colore bianco e il colore nero uno a fianco all'altro e questo crea un enorme contrasto. Il contrasto in fotografia è un enorme catalizzatore dell'attenzione e noi fotografi dobbiamo sempre utilizzarlo in maniera molto puntuale per decidere dove porre l'attenzione delle nostre fotografie. L'utilizzo di un forte contrasto nelle nostre fotografie ci permette di trasmettere tutto un determinato set di emozioni. Sicuramente è un qualcosa che incide tantissimo le immagini e ci porta a un senso di intensità, magari di azione e di amicità alle nostre immagini. Molto spesso infatti scene di atleti in movimento, i muscoli degli atleti di movimento vengono mostrati con dei grandi contrasti, oppure scene dinamiche di corse, di animali in corsa o anche di scenari di guerra o elementi in grande movimento. Tutta questa dinamicità e intensità è ben rappresentata da un enorme contrasto. Nel caso tu utilizzassi una luce artificiale ecco che per avere un contrasto molto forte vuoi cercare di avere una fonte luminosa molto piccola e abbastanza lontana dal tuo soggetto senza usare nessun tipo di diffusore. Non tutte le emozioni sono adatte a essere trasmesso attraverso un grande contrasto. Se per contro vogliamo comunicare un senso di pacatezza, relax, spensieratezza e pace all'interno delle nostre fotografie e tranquillità, ecco che un grande contrasto non è più adatto, ma vogliamo avere poco contrasto nelle nostre immagini per riuscire a non porre attenzione in determinati punti specifici dell'immagine e non stressare l'occhio nel continuo passato fra un occhiare e uno scuro. Se usiamo una luce artificiale lo possiamo fare utilizzando una luce molto molto grande vicino a un soggetto tipo il softbox che ho qui vicino a me o andando utilizzare dei modificatori di luce. Utilizzando la luce naturale è perfetto avere il sole nascosto dietro le nuvole che va a diffondere per bene tutta la luce va a creare dei contrasti non troppo intensi. Per esempio guardiamo questa immagine dei calanchi che è stata scattata con il sole al di sotto dell'orizzonte quindi non avevamo della luce diretta eppure siamo tranquillamente in grado di distinguere le parti più illuminate e le parti più in ombra del calanco anche se non vi era luce diretta. In questo caso la fotografia è assolutamente poco contrastata e non ci dà un senso di dinamicità o un senso di grande intensità e ciò non di meno riusciamo a distinguere perfettamente i dettagli riusciamo ad apprezzarne le differenze fra le parti chiare e le parti scure ma i messaggi trasmessi le emozioni che suscitano sono assolutamente diverse. Quest'altra immagine di calanchi invece è scattata con la luce diretta del sole e ha un enorme contrasto e sicuramente quali che siano le emozioni che potrete provare osservando questa immagine non saranno sicuramente le stesse dell'immagine vista poco fa. Ora abbiamo parlato della luce e adesso non ci resta che andare a parlare delle sue componenti cromatiche ovvero i colori. Vorrei fare una macro distinzione utilizzando i colori più comuni che abbiamo in mente che sono quelli dell'arcobaleno e li vorrei dividere in due gruppi i cosiddetti colori caldi che sono il rosso l'arancione e il giallo e i cosiddetti colori freddi che sono il verde il blu e il viola sostanzialmente. Iniziamo a parlare del colore rosso che appunto è un colore caldo. Questo è un potentissimo catalizzatore dell'attenzione se abbiamo un elemento rosso all'interno delle nostre immagini il nostro occhio tenderà a osservarlo immediatamente a posizionare la nostra attenzione su di esso. È un colore che non siamo molto abituati a vedere in natura infatti sono presenti alcuni animali come le coccinelle oppure qualche frutto o qualche bacca ma in generale non è un colore che si osserva così spesso. È anche un colore che nell'immaginario comune siamo abituati ad associare all'amore e alla passione quindi è un qualcosa che andiamo a ricercare e ci cattura tantissimo la nostra attenzione. Inoltre anche il colore che può essere ad esempio associato al sangue quindi è un qualcosa che immediatamente cattura la nostra attenzione ma non ci comunica necessariamente un senso di pace e spensierate. Parliamo adesso dell'arancione. Anche l'arancione come poi tutti i colori caldi sono in generale degli elementi dei colori che vanno a catturare molto la nostra attenzione però l'arancione a differenza del rosso è un colore molto più comune in natura. Per esempio tutti i tronchi degli alberi sono marroni ma il marrone è una variazione dell'arancione oppure i cieli all'alba e al tramonto con un bel nelle ore d'oro sono infuocati e tendono a avere moltissime tonalità di arancione al loro interno. Inoltre l'arancione è presente anche in pellicce di molti animali o ad esempio anche nel colore della sabbia e nella sabbia dei deserti. Il colore arancione in generale è un colore che dà una sorta di sensazione di calore visto sia come un calore di grandi temperature, una grandissima affosa giornata estiva, sia come un calore di un ambiente accogliente che un po' richiama il focolare domestico. Immaginiamo un bellissimo tramonto caldo. Lo definisco caldo appunto perché accogliente ci trasmette una sensazione di pace e serenità e non di pericolo o di ansia come invece fanno i colori scuri. Facciamo un esempio videografico del colore arancione. Fate caso in moltissimi film quando abbiamo delle scene in qualche salotto, domestico, in qualche ambiente familiare, uno dei colori predominanti sarà proprio l'arancione. Questo perché comunica un senso di appartenenza, un senso di accoglienza, di casa propria, di un posto tranquillo dove passare del tempo senza nessun pericolo e preoccupazione. Infine parliamo del colore giallo. Il colore giallo forse è uno dei colori che più associamo alla felicità in generale e già da bambini siamo abituati anche a colorare il sole di colore giallo. Quindi noi associamo sicuramente all'idea di giallo un qualcosa di felice e gioioso, spensierato, una bella giornata luminosa. Inoltre il giallo in natura lo troviamo anche in numerosi frutti e fiori. Quindi sicuramente è un colore che andiamo ad associare tipicamente a degli elementi felici nelle nostre fotografie e quindi dovremo andare a cercare di utilizzarlo per comunicare dei messaggi di questo genere. Anche il giallo come tutti gli altri colori caldi è un punto di grande attenzione all'interno delle nostre fotografie. Passiamo adesso invece ai colori freddi. Iniziamo adesso a parlare del colore verde. Questo è il colore che nell'immaginario comune associamo tutti quanti alla vita e alla natura. E queste sono anche le emozioni che possiamo andare a trasmettere. Un senso di appartenenza a un ambiente naturale, tranquillo e pacifico, non certo di pericolo e angoscia. Immaginate anche tutte le sale operatorie e i camici dei medici. Sono tipicamente dipinte di un colore verdastro molto molto tenue. Questo perché ci trasmette un senso di rilassatezza e tranquillità. Immaginate se entrando in una sala operatoria invece trovaste tutte le pareti colorate di un colore rosso acceso. Ecco che il vostro stato d'animo e le vostre emozioni sarebbero molto diverse. Quindi il colore verde, specialmente per chi fotografa paesaggi, viene associato immediatamente a natura e a un ambiente tranquillo e pacifico. Parliamo adesso del colore blu. Il colore blu probabilmente in natura è il colore più comune in assoluto e siamo abituati a vederlo come sfondo del cielo. In natura gli elementi blu non sono poi così tanti, sono qualche fiore, probabilmente nulla più. Per il resto sono tutta una serie di elementi intangibili come possono essere i grandi oceani, le grandi masse d'acqua oppure il cielo e il lontananza. Ho definito questi oggetti intangibili perché quando guardiamo l'acqua poi da vicino in un bicchier d'acqua essa ci appare trasparente e lo stesso vale per l'aria. Guardando in lontananza possiamo vedere un bel cielo azzurro ma appena ci guardiamo intorno a noi non distinguiamo più il colore dell'aria. Anche il colore blu esattamente come il colore verde è un colore che tipicamente ci trasmette tranquillità e rilassatezza. Però il colore blu nelle sue accezioni luminose, quindi un colore blu più intenso e scuro oppure un colore molto più chiaro verso l'azzurro ci può comunicare emozioni differenti. Un bel azzurro chiaro ad esempio ci trasmette un senso di felicità, spensieratezza e gioia, positività, ottimismo esattamente come il colore giallo. Un colore blu più scuro ecco che a questo punto inizia ad assumere più una connotazione di mistero, un qualche cosa più di senso d'angoscia, di azione. Quindi può avere veramente tante variazioni a seconda della sua luminosità. Parliamo infine del colore viola. Esso può essere visto come una sottospecie del colore blu però ne parliamo a parte. Sicuramente non è un colore molto comune in natura. Esso è presente in qualche fiore ad esempio glicine oppure lavanda e lo possiamo trovare in alcuni momenti molto particolari della giornata ad esempio fine ora d'oro inizia ora blu quando il cielo assume tante sfumature tra queste troviamo anche il viola. È un colore che in virtù dell'essere meno presente in natura attira molto più l'attenzione rispetto ai suo parente blu oppure verde però ci comunica comunque un senso di tranquillità e rilassatezza nell'interno delle nostre immagini e non certo di angoscia o movimento. Ci tengo a precisare una cosa molto importante. Le chiavi di lettura sui colori che vi ho dato poco fa sono soltanto una delle tante possibili chiavi di lettura. Vi possono essere altri significati e interpretazioni di questi colori a seconda del contesto in cui essi vengono utilizzati o anche semplicemente del periodo storico. E se hai piacere di approfondire quest'argomento non posso che consigliarti questo libro di Riccardo Farcinelli che si chiama Cromurama che è appunto un saggio che parla del colore nel corso del tempo e nel corso dei secoli ed è veramente interessantissimo e può aprirti la mente a tantissime idee di cui sei assolutamente abituato a vederle ma magari non hai mai pensato. Ti lascio il link qua sotto in descrizione se avrai piacere di leggere questo libro. Ci tengo a portarti un esempio sulla diversa concezione dei colori vista ad esempio nei cartoni animati Disney. Tipicamente i buoni e gli eroi rispetto ai cattivi e agli antieroi vengono rappresentati con dei colori molto differenti. Di solito i buoni e gli eroi vengono rappresentati con dei colori caldi, solari, gioiosi, tra cui annovero anche appunto l'azzurro molto chiaro. Mentre i cattivi tipicamente sono rappresentati con i colori che abbiamo definito prima freddi. Portiamo qualche esempio. Immaginiamoci la scena del Re Leone in cui Scarra si gongola del suo piano malvagio. In quella scena è presente tantissimo il colore verde, ma non un verde associato alla natura, un verde più tossico e insalubre. Malefica nella Bella Addormentata nel Bosco è un tripudio di viola, nero e anche in questo caso verde. Parliamo invece della Spada della Roccia. Mago Merlino, visto come il buono, l'eroe della storia, ha un colore azzurro molto chiaro. In opposizione abbiamo ad esempio la Maga Mago che ha tutti dei colori viola o verdi. Quindi mi raccomando tutta l'analisi delle cromie dipende anche tantissimo dal contesto in cui vengono utilizzati. E come abbiamo appena parlato in questo esempio anche della loro contrapposizione. Poco fa abbiamo parlato di contrasto luminoso come la contrapposizione fra luce e ombra molto vicini fra loro. E lo stesso vale per i colori. Anche il contrasto cromatico è un elemento molto importante delle nostre fotografie. Mettere assieme fra di loro colori differenti e metterli molto vicini tra di loro ci permette tantissimo di catturare l'attenzione del nostro soggetto. Vi sono tantissime teorie del colore, ad esempio la più famosa è la teoria dei colori complementari e anche di queste ne potete leggere diffusamente nel libro Cromorama. Io non voglio parlare di nessuna di queste perché la maggior parte di esse hanno una importantissima applicazione nel design, ma non così tanto all'interno della fotografia, specialmente una fotografia outdoor nella natura. Questo perché i colori che abbiamo a disposizione sono già lì decretati da madre natura e non è che possiamo scegliere di accostarli più di tanto. Quello di cui mi preme parlare è il contrasto cromatico fra l'insieme dei colori freddi e l'insieme dei colori caldi, che è un qualcosa di molto più comune da trovare nella natura in tutte le fotografie che possiamo fare tutti i giorni. La contrapposizione di un colore caldo e di un colore freddo è un grande elemento di attenzione delle nostre immagini. E dal momento che siamo abituati a vedere i colori freddi come un qualcosa di sfondo, come la natura, i prati, le montagne o il cielo o il mare, andiamo immediatamente a porre maggiormente la nostra attenzione sul soggetto di un colore un pochino più chiaro. Inoltre la presenza di colori caldi e di colori freddi all'interno delle nostre immagini ci trasmette anche un insieme di emozioni contrastanti, perché i colori caldi appunto ci trasmettono un senso di pace, di armonia e di ambiente familiare, cosa che invece non fanno i colori freddi, che ci danno un pochino più l'idea di un posto un po' più asettico, anche se comunque tranquilli. Questa contrapposizione fra colori caldi e freddi è comune in fotografia, ma è il pane quotidiano nella videografia. Iniziate a fare caso nei prossimi film che andrete a vedere. Sono molto popolari delle inquadrature in cui all'interno della stessa scena troviamo sia dei colori caldi sia dei colori freddi. Questo per comunicare appunto un senso di contrapposizione e spostare l'attenzione in un luogo o in un altro. Di solito anche in questo caso troverete i colori caldi associati alle fonti luminose e i colori freddi associati alle zone in ombra più lontane dal nostro soggetto di interesse. Quindi ora abbiamo visto tutti gli strumenti che un fotografo deve sapere utilizzare al meglio per riuscire a avere delle fotografie di grande impatto. Deve capire e utilizzare al meglio la luce, sia vista come luminosità di una scena sia vista come mancanza di luminosità, quindi oscurità di una scena e anche utilizzare sapientemente il contrasto. Se poi non si fotografa in bianco e nero, lo stesso vale per i colori. L'utilizzo di un colore invece di un altro è molto importante perché permette di caratterizzare maggiormente l'attenzione oppure no. E lo stesso vale per tutto il set di emozioni che vengono trasmesse dai vari colori e in particolar modo facendo attenzione alla distinzione fra colori caldi e colori freddi. Con questo è davvero tutto per questo video. Spero che tu l'abbia trovato interessante, che abbia imparato qualcosa di nuovo e come al solito mandalo a qualche tuo amico a cui pensi possa interessare. Mi raccomando considera l'idea di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanella così sarai sempre sintonizzato sulle prossime uscite e perché no lasciami un like. Come al solito se hai qualche domanda o curiosità lasciamela scritta nei commenti qua sotto e vedrò di risponderti al più presto. Per ora non mi resta che augurarti buoni esperimenti sulle tue fotografie e mi raccomando osserva anche le immagini di altri fotografi per prendere spunto e ispirazione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!